Riccardo stasera a Merlot? Stasera a Merlot? Ma mica solo Merlot, qui abbiamo sentito, siamo già live, buonasera, international, abbiamo già assaggiato, uno scumante della valdiana, fantastico. E' un territorio che noi valorizziamo già con i nostri eventi, sia a Gozze di Wine che anche a Caruso, che anche a Binaudà, insomma abbiamo avuto queste aziende sempre ospite, che ci piace molto. Vardigliana è un bel territorio, basta. Davide dell'azienda agricola Il Roglio. C'è anche questo nome, scusa se ti interrompo, ce l'hanno fatto raccontare, il nome è una poesia, perché quando si vanno qui nelle aziende agricole toscane ci sono tutti questi nomi fantastici. La settimana scorsa avevamo la Querce Bettina, abbiamo il Roglio, abbiamo tutti dei nomi fantastici, è la poesia, l'anima, l'anima, l'anima dei vignaioli artigiani. A Vineria Moderna abbiamo i vini fatti con l'anima, perché è vero, con la passione. Guarda, che si potrebbe anche chiuderla così, perché con questa dichiarazione, i vini fatti con l'anima, come fai ad andare avanti? Facciamo una carrellata degli amici, siamo tutti qua, un brindisi tutti insieme, tutti insieme, un orgullo di fuori, vabbè, lasciamoli qua fuori. Bisogna stare pochi alla volta, per questo. Poi alla volta, noi siamo molto attenti, non ci siede a sembrare, non ci assembliamo, però brindiamo. Buon Natale a tutti, grazie, alla prossima, ciao.